In virtù dei nuovi cambiamenti la figura del commissario straordinario ANAC che è una nuova figura che è stata praticamente inserita nel nuovo governo qui nell'ambito della commissione di diritto per l'economia oggi abbiamo proprio l'esordio di questa commissione per far luce su queste tre figure che stanno prendendo il sovramento in questo momento abbastanza difficile del nostro paese. La prima figura è quella che dicevo poco anzi, il commissario straordinario ANAC quindi praticamente i professionisti, i commercialisti in particolar modo oggi avranno delle basi su cui poi poter ragionare e poter cimentarsi per il futuro per prepararsi anche ad acquisire questi nuovi incarichi. Noi come commissione faremo un corso dedicato proprio affinché si possano formare figure tra i commercialisti che possano affrontare questa problematica. Poi l'altra figura che oggi tratteremo è quella del commissario straordinario 231-01 anche in questo caso ci sono dei cambiamenti anche in questo caso sempre come commissione stiamo affrontando questa problematica che non è marginale a quella del commissario straordinario ANAC ma è complementare e quindi serve sicuramente sia per quanto riguarda il mondo della giustizia che per quanto riguarda il parterre dei professionisti napoletani affinché possano dare con la loro energia e la loro professionalità un contributo. E come ultimo amministratore giudiziario in sede penale che è una figura ormai conosciuta, riconosciuta e ultimamente sta avendo sempre più un significato forte perché i sequestri sono ormai costanti specialmente per quanto riguarda la malavita che ormai è ingerita nel mondo imprenditoriale quindi quotidianamente leggiamo sui giornali i sequestri fatti a clan che hanno investito in attività imprenditoriale quindi la figura del commercialista sempre in questo ambito è importante perché è colui che può gestire effettivamente le aziende affinché non vadano poi in default come invece purtroppo i dati italiani portano come riferimento, stiamo parlando di circa il 70% barro 80% di aziende poste sotto amministrazione giudiziaria che alla fine vedono la scuola del fallimento e noi dobbiamo cercare di fare questo perché essendo dei professionisti e dovendo dare una mano al tessuto imprenditoriale professionale italiano dobbiamo dare un contributo.